non baschi tra l'altro lì c'erano per la passione a comprare i dei possibili fatti come se quel cazzo non avessi fatti se no non lo taglio come come che sono espresso e mi piace che sono fatti io sono mi sono appensoviato sono le due di notte operazione balsam andiamo ragazzi sono le due e mezza del mattino noi qua siamo già belli operativi sono pronti per una partenza per fare più di 1500 km in un giorno solo c'è una telecamera qua ma stai separando un po' l'orsetto no 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 perché all'inizio l'operazione balsam vedo il nostro chitarrista che parla con un orsetto e dico ok diciamo bene ok allora noi adesso andremo dalla talpa all'orologio a prelevare gli ultimi due compagni di viaggio di questa bizzarra avventura e poi partiremo e poi partiremo allora sono le 3.45 del mattino e due terzi della macchina due quarti della macchina sono ubriachi gli altri due sono sani ma a corto di sono pieni di valigie e a corto di ore di sogno e stiamo partendo abbiamo quasi investito un gatto ma non è ancora vivo non vi preoccupate voi animali visti in sala ciao ragazzi ciao stiamo partendo per un viaggio epico di 5.000 km circa è una singa rata di 5.000 km con tre tappe obbligate una liepaia una liepaia una liegola la prima è vera la prima proclam in Polonia dove facciamo tappa perché è l'unico oh ci abbiamo già la sera con l'inizio lata è un proclam sì che è bella di nuovo ti ho chito la cena grazie a tutti e ora siamo fermi e via tra l'altro domani 12 ore e mezza ma in più c'è il loro legato è ripartito? ma sei in diretta su Instagram? sì dite qualcosa ah sei in diretta? no e cosa posso dire? perché mi fumo una sigaretta portavoce siamo gli Artichok siamo in Germania siete purtroppo e siamo bloccati e siamo bloccati da 20 minuti in coda è già mezz'ora e questo comporterà un ritardo esatto penso catastrofico mi auguro di no però un ritardo deciso al massimo partiamo invece che alle 3 partiamo all'1 andiamo là facciamo il giro dal tavolo vai da qualche angolo soprattutto dalla Germania è tutto a voi studi che freddo eccolo lì ci siamo? ci abbiamo oi ragazzi ce l'abbiamo fatta eccoci 3 2 1 e siamo in e vai alla conquista ragazzi ce l'abbiamo fatta a a a a a a a allarme intruso allarme intruso ops devo lanciarmi? no se si rovescia a parte se si rovescia fa un casino si appiccica tutto e poi c'è una delle mostrinte quella là diciamo si che non fai molto cadere là a di rovescio guarda che è bella la tua premessa iniziale no alcool no coke lo sai esatto vieni vieni dopo si arriva il 14 no scale 100 no 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 Porca puttana, porca puttana, mi stai filmando, mi metti in eccitazione, hai visto, ho perso. È il momento dello scumbold, quezza. Lo scumbold qui, cioè, cosa gli stai chiedendo? Sei leggermente rosso, ma lasciati dire. In questo caso non è necessario chiedergli proprio niente. Ma se lo metti in pigiama vai a dormire così. Questo se lo teniamo per me. E' un po' pfff. Allora, siamo arrivati in un stadio. E siamo arrivati in un stadio. E' molto molto bello. C'è ora ci siamo venuti in un stadio e poi ci sono anche gli altri. Ecco io. Salve. Buongiorno. 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 Ok. Questa è l'ultima data, stasera abbiamo l'ultima data del tour. Avete qualcosa da dire? Mello ceppurri su balleria. Concordo. Mi stai alzando, Lollo. Buongiorno. 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 Il nostro Andrea che si fa il suo tatuaggio Il suo ennesimo tatuaggio Adios Trecentocinquanta metri Svoltare a destra Ciao ciao Ligo Ciao 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 Ciao